Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre Notte Horror 5 novembre Cortometraggi 6 novembre Videoclip, animazione e documentari Dal 4 al 6 novembre Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni, ore 21. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Tortona. Tra poco tre persone, fermate in maniera casuale, risponderanno alla domanda del giorno. Stiamo chiedendo alle persone che frequentano Tortona, o perché ci vivono o perché ci lavorano, un pregio e un difetto, secondo lei, di questa città? Che la politica fa chiudere l'ospedale. Questo è un difetto. Della politica regionale. Pensa che sia una situazione da risolvere? La politica è quella che ci manda in rovina. Perché secondo lei non c'è la volontà di salvare questa struttura? Purtroppo, ti mandano negli altri ospedali, se la capienza è di 10.000, ne arriva altri 5, non li assorbano. Quindi la prima cosa che le viene in mente è la sanità locale. La sanità è la politica che non è sporca. Se invece dovesse dare un'opinione positiva di Tortona, magari per qualcuno che non c'è mai stato, venite a Tortona perché? No, Tortona è ancora una città vivibile, però i negozi stanno chiudendo tutti. Vedi che qui c'era la standa di 10 anni e più che è chiusa, adesso viene una banca, speriamo. Se non ci sono i negozi non entra in gente. Poi è tutto un divieto di sosta, molti. Tu vai a prendere un caffè, senti un momentino dalla macchina, ritorni indietro e il caffè magari ti costa 45 euro. Necessità di far cassa. Quindi è un'opinione tendenzialmente negativa. Insomma, se ne sono diverse cose. Noi dovremmo essere il giardino d'Europa, avere i marciapiedi laccati d'oro. E invece? Sì, il cemento bucato. Allora, il pregio è che comunque è una cittadina ricca e che potrebbe far sviluppare l'economia molto di più di come è adesso. E di conseguenza il difetto è proprio questo, che secondo me le istituzioni, il comune, non mette particolarmente impegno. Ad esempio questa è una bellissima piazza e quando ci sono manifestazioni di un certo livello il tutto finisce lì e questa piazza rimane sempre desolata. E quindi chi purtroppo come me in questo tratto di via... Che lei è un'attività qua in questa via? Esatto, ne subisce molto le conseguenze. Quindi lei pensa che dovrebbe l'amministrazione locale investire maggiormente sotto il punto di vista culturale, per esempio, degli eventi, delle attività culturali? Esatto, quest'anno è stato fatto molto di più. Però secondo me bisogna studiare le cose in maniera un po' più dettagliata, partire molto in anticipo sui mesi in cui si vuole poi veramente fare qualcosa e dare più vita insomma alla città. Domenica alle 18 di sera sotto i portici qualcuno ha messo su Facebook un'immagine dove a perdita d'occhio non c'era una persona. La città non può vivere così. Forse non porta neanche le persone ad arrivare da fuori per visitarla, presumo, a vederla così vuota e povera di eventi e di occasioni per divertirsi. Esatto, perché quando uno va a una fiera, arriva in fondo, vede l'ultima bancarella, il 99 su 100 torna indietro, dice finito, torniamo indietro. Invece bisognerebbe coinvolgere tutta la città per far sì che anche oltre all'ultima bancarella ci sia qualcosa per far sì che la gente possa andare a mirare le vetrine. Ah, beh, frequentandola da quando sono nato, secondo me, ma un pregio è che non essendo molto grossa, diciamo, come città, magari è più vivibile, nel senso che vedi la gente più spesso, magari riesci anche a viverla meglio. Secondo me, dal mio punto di vista, questo è un pregio. Più ha portato a Duomo, diciamo, rispetto a una città grande come Milano, Torino. Per esempio, già secondo me Voghera è un po' più grande, più difficile da, diciamo, da viverla. Sicuramente di pregi adesso non me ne vengono in mente altri. Questo già ci va bene, un difetto invece? Un difetto, eh, un difetto che forse per i giovani magari può essere una banalità, però forse magari per i giovani non c'è molto, nel senso che magari, tipo già il sabato sera, quando esci, già alle undici, undici e mezza, è già abbastanza vuota e di conseguenza per i giovani non è, dal mio punto di vista, non è molto favorevole. Quindi mi stai dicendo che le tue serate, nel weekend, per esempio, non le passi qua, ma ti sposti da qualche altra parte? Soprattutto Salice Terme, oppure Pavia, che sono, diciamo, le più quotate. Forse dovrebbe migliorare tutto questo punto di vista. Per me è l'unico difetto che trovo questo qua, sinceramente.